Lavoriamo insieme per far crescere la famiglia e la natalità. Le vacanze estive sono alle porte e ancora una volta Estate Giovani e Famiglia è a disposizione di mamma e papà per trovare le proposte ricreative più adatte ai propri figli. Un ampio mosaico di eventi e attività in grado di soddisfare tutti i gusti e le passioni. Tante occasioni per socializzare, divertirsi e imparare qualcosa di nuovo. Come fare? Basta un semplice click per scoprire tutte le opportunità suddivise per valli, città e paesi. Estate Giovani e Famiglia, tante idee per il divertimento di bambini e ragazzi e un'occasione per armonizzare i tempi della famiglia con quelli del lavoro. Perché se cresce la famiglia, cresce la società e cresce l'economia. Informati! Grazie